All'inizio del 2021 ho pensato che le storie di alcune importanti personalità da sempre impegnate nella vita culturale della nazione potesse essere di stimolo e di esempio al pubblico e ai nostri operatori culturali. Abbiamo poi progettato di raccogliere queste brevi interviste in tv per raggiungere tutti, perché le sale per i convegni purtroppo erano chiuse. Il nostro impegno resterà quello riassunto nel motto portiamo la cultura a casa vostra. Credo quindi che per una partecipazione culturale crescente e consapevole sia davvero utile un confronto stabile tra il nostro territorio e quello nazionale e quindi vi suggerisco di frequentare spesso le tante offerte culturali della nostra provincia e anche quelle che portiamo a casa vostra. Buona visione! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con una grande personalità della cultura italiana, con un grande contributo allo sviluppo culturale della nazione. Oggi siamo con Caterina Bondi, Varsassina e Madrisio, che è stata capo di tutte le soprintendenze italiane nella direzione generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero. Mia vicina distanza negli anni che ho passato in quel ministero, lei con le soprintendenze e io con i musei, due mondi che avevano bisogno di parlarci e questo dialogo è avvenuto anche grazie alla grande stima che ho avuto per lei e all'amicizia che ha voluto dedicarmi. Oggi è qui a Bolzano e la ringrazio veramente di essere qui e le faccio subito la prima domanda, è intanto ben arrivata, e la prima domanda che faccio sempre è come ti sei avvicinato al mondo della storia dell'arte nel tuo percorso giovanile a questo punto? Ma mi sono avvicinata molto presto, avevo 16 anni e attraverso la mia insegnante del liceo capisco che questa materia, cioè la storia dell'arte, io facevo il liceo classico che era un'ora alla settimana che tutti consideravano una materia di serie B e io scopro che mi piace moltissimo, quindi comincio a studiarla come una pazza al punto tale che facevo salina a scuola per andare alla biblioteca civica di Perugia a studiare direttamente sul TOESCA sui testi che lei ci aveva insegnato, quindi mi assentavo dalle orarie di lezione per fare un po' di più di storia. Per approfondire nei testi universitari. E poi come comincia la professione in un ministero che allora era veramente caratterizzato da grandi personalità? La professione è anche data più o meno alla stessa epoca perché a un tè a casa di amici conoscevo già, ma insomma parliamo, con l'allora soprintendente dell'Umbria e decido sempre a 16 anni che volevo entrare in soprintendenza. E poi ci sono entrato. La tua carriera ha spaziato sia da funzionaria che da dirigente tra Napoli, Roma, il Kenya, Perugia, Milano, Venezia e poi l'Istituto Centrale del Restauro e la direzione generale dove io ti ho conosciuta. Ma in tutti questi passaggi anche la vita professionale è fatta di incontri. Quali sono le persone che vuoi ricordare che hanno segnato il tuo cammino professionale? Vado indietro nel tempo. Forse la primissima persona a cui debbo buona parte di quello che sono oggi o che sono stata nel corso della mia carriera è stata Sandra Pinto che all'epoca dirigeva la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. Per cui in realtà la mia formazione è venuta più che sui libri molto come una sorta di apprendistato sul campo perché l'aiutai ad allestire sei sale alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti e lei mi introduce, mi inizia agli studi sull'Ottocento e mi inizia un metodo, un metodo che voleva modificare e che ha poi modificato grazie a lei non soltanto per me ma anche per moltissimi altri studiosi e storici dell'arte, un approccio che non era la bella pastore, insomma era un approccio molto puro visibilista e riduttivo dell'Ottocento anche italiano e invece era un lavoro che si faceva con lo stesso identico rigore che usavano gli storici dell'arte dei secoli precedenti anche per l'Ottocento con una possibilità in più perché le fonti antiche nell'Ottocento sono molte dei più, sono rimaste, quindi guardare la stampa, i cataloghi delle mostre eccetera eccetera, la sandra era talmente fissata che i titoli dei cartellini dei quadri dell'Ottocento che allestivamo dovevano recitare il primo titolo con cui il quadro era stato presentato a una mostra, quindi non erano cartellini semplici, bisognava fare ricerca per poter scrivere qualcosa di sensato, quindi è stato un incontro fondamentale. Se vado a seguire il direttore generale Mario Serio, che in qualche modo mi ha lanciato, Evelina Borea con la quale ho lavorato storica dell'arte anche lei per la mostra Bellori, l'idea del bello, viaggio nella Roma del 600 con Giovanni Pietro Bellori del 2000, Pino Proietti. Eh sì, grande segretario generale. Pino Proietti che ha lanciato l'esportazione all'estero del know-how dell'istituto centrale del restauro. Sì, e infatti l'altra domanda che ti volevo fare, essendo tu stato a capo del sistema italiano del restauro, l'istituto centrale che ancora oggi è uno dei più fulgidi depositi di professionalità, è questa. Perché il restauro è così importante per l'Italia? È forse un fulcro fondamentale del Ministero, della cultura, ma anche proprio del sapere italiano. Ma cosa ci viene chiesto all'estero? Lo capiamo da quali sono i nostri clienti? Non abbiamo avuto molto meno, molto più raramente, diciamo i clienti dei grandi musei dalla Francia, anche se abbiamo avuto rapporti anche con loro dall'America, ma soprattutto invece dai paesi del cosiddetto terzo mondo in via di espansione, non più terzo mondo ormai, ma siamo stati chiamati a lavorare in Egitto, in Cina, nel Nord Africa, in Peru e quindi materiali soprattutto archeologici o di siti archeologici, perché la pittura nel senso dei quadri è strane a certe aree geografiche. E qual è il tipo di cosa che ci chiedevano? Beh, un metodo. Quello che noi potevamo asportare più ancora o insieme alla manualità era un metodo, sapere cosa fare, in che ordine farlo e come farlo. E molto spesso invece era un approccio più, come potrei dire, artigianale antiquato quello che c'era fuori, oppure più, meno rigoroso nel rispetto dalla materia costitutiva. Questa è una cosa che abbiamo visto molto in Cina, oppure l'inesistenza in questi paesi della figura del restauratore di beni culturali che conosce la teoria e sa come applicarla. Quindi è una grandissima professionalità soprattutto sulla materia che noi abbiamo costruito. Sulla materia e sulle professioni, tant'è che la teoria del restauro di Brandi è stata tradotta in dieci lingue, di cui la più difficile, che ero ancora direttore dell'istituto, fu la traduzione inglese, perché il linguaggio italiano di Brandi è quasi intraducibile in inglese, come anche Longhi per la verità. Esatto. Ma parlando di Brandi, che è stato un po' un punto di equilibrio di questa dialettica molto vivace tra la scuola di Longhi e la scuola romana di Venturi, che ha caratterizzato la vita degli storici dell'arte, insomma, in qualche maniera, o perlomeno quello che attraverso i giornali, la comunicazione, il dibattito sociale si vedeva. Ma questa cosiddetta diatriba, questa dialettica vivace, come la chiamo io, l'hai vissuta tu personalmente in qualche episodio? Sì, l'ho vissuta perché poi ho lavorato, ho studiato a Firenze, e quindi sono lunghiana come mia formazione, diciamo, scientifica, ma ho lavorato soprattutto a Roma, a Firenze non ho lavorato in maniera diretta. E quindi, anche se anche a Roma c'erano delle persone che avevano l'occhio assoluto, non l'ho vissuta come dialettica, c'erano persone, fra i funzionari colleghi o anche esterni all'università, che avevano quella qualità che c'è anche in musica, l'occhio assoluto, l'orecchio assoluto, è una sorta di talento. Ed è un talento che se uno non ce l'ha innato lo deve esercitare, ma è anche molto divertente perché si tratta non solo e non tanto, o in aggiunta, di studiare i suoi libri, ma esercitare l'occhio a vedere, 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 fino a quando poi, dopo che hai visto, non so, centinaia o decine di fotografie di un certo pittore, poi lo vedi dopo tre mesi. Non riesci a fare l'attribuzione. Ce ne ha parlato Claudio Strinati, è stato molto bello come lo ha definito per un pubblico generalista. Quando mi chiama mia moglie non ho bisogno di chiedere chi sei. Questo è veramente un... A me piace ricordare anche un altro episodio che viene dall'Oriente, riguarda il riconoscimento delle materie, quindi anche come sono disegnate le cose in un quadro. Un allievo andò da un maestro perché voleva imparare a riconoscere la giada. Il maestro non gli parlava mai, ogni giorno gli dava in mano un pezzo di giada. Una delle cinquantesime volte che il ragazzo va là, gli mette in mano un pezzo e il ragazzo fa ma non è giada. Perché a furia di tenerlo in mano c'era un riconoscimento che in questo caso riguardava il tatto oltre che l'occhio. E quindi l'importanza dei sensi, questo è molto forte nel lavoro dell'attribuzione che è una parte fondamentale. Anche nel lavoro del restauro. Anche nel restauro, certo. Insomma tu sei stata capo del sistema del restauro italiano con questo grandissimo istituto, sei stata capo della direzione generale educazione e ricerca e poi appunto forse della più caratterizzante direzione generale del ministero che è appunto quella a cui fanno capo le soprintendenze, belle arti e paesaggio. Archeologia devi dire. E archeologia, belle arti e belle arti. Esatto. Come storica dell'arte ti sei quindi occupata anche del lavoro degli architetti, del lavoro degli archeologi e hai vissuto la stagione della riforma che ha portato alla soprintendenza unica. Ti ha fatto piangere qualche anziano signore e che forse è interessato di più chi è vicino alle competenze trasversali e alla ricerca di imparare continua. Qual è il tuo punto di vista sulla soprintendenza unica? È positivo in prospettiva. Se posso, diciamo, vedere a distanza ormai, sono 6-7 anni che è varata la riforma, se c'è un difetto quella riforma, è un difetto di un eccesso di utopia. In altre parole, prevedere in maniera, prevedere per legge diciamo, che le persone che lavorano insieme vadano tutte d'accordo e d'amore e non capire una cosa che non ha a che fare con i libri, ma ha a che fare con l'animo umano che tende invece al disaccordo quasi sempre. Soprattutto in quest'ambito. Mi era servito molto quando sono state varate le soprintendenze uniche l'essere stata all'ICR, perché lì l'ICR aveva non soltanto storici, architetti e archeologi, tutte e tre le maestranze, ma anche restauratori, chimici, fisici, biologi, che fra di loro deliziosamente litigavano tutto il giorno, tutti i giorni, sempre. Ma cos'è che li teneva insieme? Un progetto comune, pur litigando alla fine si arrivava al risultato. La stessa cosa si poteva ottenere più facilmente, avendo solo tre professioni e non cinque, sei come era il caso dell'istituto. Quindi io lo feci con abbastanza passione. L'elemento più fragile, quello più negativo rispetto alla costituzione delle soprintendenze uniche veniva dal mondo dell'archeologia, che si sentiva defraudato di una unicità, che è la più antica delle tre discipline, se vogliamo. Forse archeologi e architetti hanno viaggiato sempre insieme, ma la più giovane delle tre discipline è quella della storia dell'arte, non c'è dubbio. Gli archeologi si sentivano proprio defraudati di un diritto di primogenitura, però di un diritto collegato, che era quello del diritto di veto, che è il più grande di tutti i poteri. Un vero potere, anche problematico a volte per la società. Non dobbiamo dimenticarlo mai, ed era questo in realtà. Quello a cui volevano in qualche modo monopolizzare. No, potevano impedire, in un lavoro architettonico facevi degli scavi sotto, loro potevano bloccare il cantiere, dieci anni, vent'anni, anche adesso possono evolvere, ma devono mettersi d'accordo. Magari con un sovrintendente, con una visione un po' più ampia. Ma nel passato sono successi casi notissimi, che ne so, i sovrintendenti, i monumenti che denunciavano gli archeologi o il contrario, hanno sempre lì. Qual è invece l'aspetto positivo che vedi? Vedo che in prospettiva, soprattutto grazie ai nuovi funzionari arrivati, l'idea di lavorare insieme invece piace ai giovani. Piace e riescono a farlo. Quindi questo è in realtà, quando poi i vecchi saranno andati in pensione. È la stessa esperienza che ho avuto io. L'ultima, soprattutto iniezione, di giovani funzionari ha portato delle teste talmente brillanti che sono veramente la speranza e il futuro del rilancio del ruolo del ministero, delle sovrintendenze, dei musei. Una generazione straordinaria. Io ho passato mesi a fare complimenti a chi li aveva selezionati, perché ho avuto nell'ultima generazione di funzionari delle persone giovani, ma straordinariamente preparate. Questo ci fa sperare bene per il futuro, insomma. Tu vivi a Perugia. Vivo a Perugia. E ci hai anche lavorato in momenti di crisi come quello del terremoto. Come no? Cosa significa gestire il terremoto dal punto di vista di uno storico dell'arte? Io ero un funzionario. Certo. Allora, col terremoto, significa questo, per esempio, la primissima cosa da fare in emergenza quando c'è un terremoto è vuotare le chiese dalle opere mobili. E siccome io ritengo che volessero liberarsi di me, quando ci fu una seconda scossa di terremoto, badate, ci avevamo scosse tre la mattina e quattro il pomeriggio. Vengo mandata nella zona di Sellano, dove ci fu una coda di terremoto ai primi di ottobre. E appunto la primissima cosa da fare è far quello, cioè liberare le chiese dalle opere mobili. Naturalmente con il rischio di crollo. Certo. E mi ricordo un caso, eravamo in mezzo alla campagna, entriamo col parroco che ci guidava, perché io non c'ero mai stata in quei posti, tra l'altro dovevamo andare fuori dalla nostra zona. E quindi tutti a prendere con le proprie mani una pistide, un altare, quello che era. E a un certo punto io mi apparto per un bisogno all'aperto. In quel momento c'è una scossa che viene dalla terra, quella fa veramente paura. Non tanto la scossa di terremoto, ma il boato che viene da sotto la terra. Quindi scappiamo tutti come frecce, naturalmente ciascuno portando una cosa perché mi ero posta come regola che non mai, ogni pomeriggio dovevo aver riempito il furgone di più opere possibili. E dissi, vabbè, se morirò pazienza. Tanto saggio i muretti attorno a me erano bassi, quindi questo non poteva non succedere niente. Quindi imballiamo e montiamo nel furgone sotto una torre civica metà crollante, metà crollata, alta, 20 metri, 30 metri, quanto è una torre. E dovevamo farlo là, non c'era verso, perché non c'era altro posto. Siamo passati in mezzo correndo fra rovine mezze alte, mezze basse. E a quel punto dico, beh, che dici? Dico all'ingegnere che era con me, in genere pare che crolli per implosione, siamo veloci e speriamo bene. E così abbiamo fatto. Ecco, quindi questo è veramente un quadro di che cosa significa essere servitori dello Stato, lavorare in ambito pubblico. Devo ammettere un mio difetto, non ho paura. Eh beh, questo in certi casi è una grande risorsa. Io ti faccio quest'ultima domanda. Abbiamo parlato delle persone che hai incontrato e che ti hanno accompagnato nello sviluppo della tua carriera, ma un grande dirigente è anche un vivaio di talenti, insomma. E quindi chiudiamo sempre con un messaggio per chi è giovane e vuole, e vuole comunque, nonostante le tante difficoltà, studiare storie dell'arte, archeologia e lavorare per il mondo della cultura o altri aspetti. Abbiamo parlato del teatro, della musica. Hai qualche allievo che puoi indicare che adesso ricopre posizioni importanti? O comunque che cosa vorresti dire a un giovane che vuole intraprendere una carriera che si avvicina alla tua? Beh, forse gli allievi più diretti sono stati, anche se non direttamente solo con me, diciamo, sono quelli della scuola di alta formazione del restauro dell'ICR, per forza, perché questi li ho anche rincontrati nel corso del tempo, che hanno costituito delle ditte, che lavorano. Non riesco a ricordarmi dei nomi, sono troppi. Certo. Sono troppi. Insegno anche all'università e vedo che con persone che mi chiedono di fare la tesi, che evidentemente un messaggio viene trasmesso e continua a esserci questa trasmissione. No, dico di provarci lo stesso che c'entra. Non era mica facile neanche ai tempi nostri. E quindi? Ci sono stati anni in cui non c'erano i soldi per le missioni. Voglio dire, la carenza di budget del nostro ministero, dove più dove meno, c'è più o meno sempre stata. Quindi, no, no, andate avanti lo stesso. Se c'è un certo tipo di passione, ecco, se c'è un certo tipo di passione, io spingo a farlo lo stesso. È un ambito davvero meraviglioso. Io ringrazio davvero Caterina Bondi di essere venuta qui e di aver raccontato questa sua bellissima vita davvero dedicata alla cultura della nazione e saluto i telespettatori dando un appuntamento al prossimo incontro. Grazie a tutti.